Tutti vediamo in questo video trucco che molte donne non conoscono per entrare davvero nella mente di un uomo. Allora, cara malgasciona, se vuoi entrare davvero nella mente di un uomo devi utilizzare un trucco. Intanto capire rapidamente se si tratta di una persona emotiva o se si tratta di un uomo iperlogico. La maggior parte sono iperlogici, però è facile capirlo perché gli iperlogici sono puntigliosi, sono, non dico più noiosi, però vanno più in profondità delle cose, sono molto, come dire, condizionati, mentre gli emotivi sono un po' con la testa tra le nuvole. Per darti un'idea, Topolino di Walt Disney è un esempio di iperlogico. Pippo, un po' svampito così, è un esempio di emotivo. Quindi, se capisci che è iperlogico, devi dargli una motivazione per mandare la fanculo. Perché? Il fatto di mandare la fanculo con motivazione lo aggancia. Invece, se si tratta di un uomo emotivo, devi mandare la fanculo senza nessun motivo. E vedrai che questo crea un innesto molto positivo e si aggancerà molto, molto rapidamente. iscriviti a tutti i miei canali YouTube attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video e condividi questo video con tutti i tuoi amici. Bene, bene, ti ricordo che sul canale ti puoi anche abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati! Sì DOMANI